Ciao ragazzi e ciao ragazze, nuovo video degustabox! Allora, entusiasmo, quando si tratta di cibo ragazzi ho l'entusiasmo ma sono ancora più entusiasta perché? Perché sono le 5 e mezza di pomeriggio, oggi è il 19 di giugno e devo ancora pranzare molto bene, sono appena rientrata dal lavoro, non sono riuscita a mangiare nulla da stamattina perché al lavoro ero in turno da sola, quindi c'ho una fame che ciao infatti ho aperto la degustabox e ho detto faccio il video perché poi mi magno la qualunque Allora, apriamo e facciamo vedere le meraviglie di questo mese perché io mi sono già spoilerata tutto e sono entusiasta pesantemente Il primo prodotto che amo ha già la follia e qua ci butterei un adoro, è lui cioè, no ma vi rendete conto raga Tortilla original di Santa Maria, super soft mini tortilla Cioè, veramente, la mia vita, 8 mini tortilla, me magno il mondo raga, che buone Si possono fare ovviamente sia in padella che in microonde, io sono già innamorata Poi, adoro anche questi che sono dei fantastici snack d'oria, si chiamano i semplicissimi e ci sono ai legumi con riso, eccolo qua, con lenticchie e piselli e poi questo qua con Io ho questi snack qua, un po' vegetali, naturali, così li amo sempre, quindi sono molto contenta Bevanda, cosa è arrivato a questo giro? È arrivato l'infuso di foglie di tè, è state bio al tè verde, questo qua ne andrà matto il mio fidanzato perché a lui piacciono un sacco questi quindi lo tengo da parte per lui Mutti, Mutti ci dà una gioia anche questo mese Pesto verde di pomodoro, con pomodori verdi, basilico anacardi, grano padano, grano, sì Grana padano, doppio e pecorino romano Io questo raga, cioè, io non la mangio mai la pasta, ma questo non vedo l'ora di provarlo Quindi mi sa, mi sa che sto weekend mangiamo la pasta Poi, Morato, Morato, anche qua ci dà delle gioie Scusate, stavo morrendo Spuntinelle morbide senza crosta ai 7 cereali, solo ingredienti naturali, lievito madre e olio d'oliva Adoro, forte, infatti le spuntinelle me le mangio insieme ai salumi della serie Siamo a dieta E mood estate 2020, mi spighi, molto bene E poi, vuoi non mettercelo un po' di caffè? Compostabile espresso, pellini, arabica 100%, 10 capsule per l'anespresso Adoro, a me il caffè pellini piace tantissimo, quindi sono felicissima Poi è arrivato un robo, che probabilmente usano le persone che fanno, cioè che usano... La gente che cucina, insomma, quelli che non sono come me, che non sono in grado di fare un belino Tabasco, salsa tabasco Vabbè, prima o poi capirò cosa serve E se avete consigli su dove inserirla, fatemi sapere, perché io non ne ho idea E poi, Natur Valley Crunchy, fiocchi d'avena con cioccolato fondente 10 barrette, qua è veramente la mia vita, cioè adoro fortissimo Top E poi, due prodotti da bere Questo qua, secondo me, il mio fidanzato perde la testa Perché è il bravo, frutti rossi senza zuccheri aggiunti con vitamina Io, veramente, top Allora, io non sono una che beve tanti succhi di frutta Nel senso, una volta ogni tanto mi fa piacere, però non sono una che compra i bidoni di succhi di frutta Preferisco comprare quelli piccoli Lui, invece, beve litri di succo di frutta Quindi questo qua è tutto suo E invece, l'altro è tutto mio Perché io sono una bevitrice a canita di latte Ed è arrivato il latte scotti Come latte, ma 100% vegetale Sono stracuriosa di provarlo È lui, il Moo, che bontà Sono curiosissima, raga, di provarlo Oltretutto Qua dice 74 calorie ogni 100 ml Io di solito non ho mai guardato le calorie nel latte normale Quindi non so quanto calorie abbia il latte Però figo, mi piace Lo voglio assolutamente provare Bene, detto ciò Termina qua il mio video degustabox di questo mese di giugno Io ora metto via tutto Vado a mangiare perché è ora di mangiare E poi avrei da farvi anche un haul di make-up E roba varia Ma vedo come sono messa dopo Perché sarai un ciccini in stanchina Quindi vedo dopo il cibo Se ho la forza o meno Se no, comunque intanto vi carico questo video E poi a breve vi farò anche gli altri Un bacio grande Come al solito Condividete, spolliciate Facciamo crescere il canale Faccio un saluto rapidissimo Non so se mi stai vedendo Non so come ti chiami Ma oggi una ragazza dolcissima Mi ha fatto complimenti per il mio trucco Che voi non riuscite a vedere in camera Perché con questi fari non si vede Ma io ho dei glitter meravigliosi sugli occhi Bellissimi Dell'ultima palette della linea She Glam di Shein E sta ragazza mi ha fatto i complimenti per il trucco Mi ha detto bellissimo Complimenti E io ero così con già il cuore E le ho detto di seguirmi Quindi se per caso sei finita su questo video Ciao e grazie Un bacio Bene, a questo punto Visto che i saluti di rito li abbiamo fatti Concludiamo qua il video E nient'altro Alla prossima Ciao